Quando? Taekwondo! Eh, non mi si carica... Ma mi voglio un uccidere... Ah, sto già registrando! Ok, non... Ok, Epic Fail, ok, salva a tutti i ragazzi, qui c'è anche di parla... Cioè, me lo dice... Ultra, sto impazzendo... Eh, Ultra, sto impazzendo... Ok, ragazzi, sono un po' impazzito, perché vi spiegherò dopo... Comunque, allora... Oggi farò la presentazione della Big Opening Online, cioè aprirò un box di Dragon Exalted Online e uno di Esploratori delle Tenebre I codici mi sono stati dati 68 da Sun Battle Frontier Quindi, ragazzi, portiamolo in alto con gli iscritti, anche perché se non arriva ai 150 non carico le parti, perché in effetti è giusto Cioè, lui mi ha dato 68 codici, quindi almeno voleva assicurarsi un po' gli iscritti ed ha fatto benissimo Ah, ragazzi, mi sono scordato di dirvi che qui con me c'è Ultra Ciao, ragazzi! Ecco, che mi ha aiutato anche lui dandomi quattro codici infernali Perché mi mancavano quattro codici e non riuscivamo ad inserirli Successo un casino, proprio... Ok, quindi ragazzi, questa Big Opening che adesso vi farò vedere, qua c'è l'icona del Trading Card Game Online È stata offerta praticamente tutta da Sun Battle Frontier, quindi iscrivetevi Perché appunto, se non raggiunge i 150 iscritti, non posso caricare la prima parte del box Ed è una cosa bella Iscrivetevi anche al canale di Ultra Fabio 1 che mi ha dato quattro codici Ah, non posso fare la condivisione, Ultra, perché c'è GoSound Va bene, niente, non ci va niente, sentirei la voce e ci sarai Ok, non ho ancora comprato le bustine online, perché volevo farlo in vostra presenza Come potete vedere c'è Stirpe dei Draghi e Esploratori delle Tenebre Come potete vedere anche è cambiato tutto il TGC online Poi ve ne parlerò, ma non so quando Ultra li compriamo? Ultra? E mi sa che Ultra è già andato Vabbè, compriamo le prime 36 bustine Perché mi segnala? Oddio Ultra Facciamo una cosa che è meglio Ah, ecco, scusate ragazzi Questi sono i... Scusate E devo fare per forza così per ora Scusate ragazzi per questo è incasinatissima, veramente Allora, un 5 36 36 35 Redem Sì Ultra C6 No Ultra non c'è E qui nemmeno mi... Ultra 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 Non capisco perché mi sono spuntati 71 codici Cioè questo 71esimo codice è proprio infernale, proprio Cioè Ah no No, ok, 36 Ultra dimmi che ci sei, ti prego Ok Non so se ne uscirò vivo da questa opening ragazzi Cioè Ma che cosa... Ma perché c'è il video? Sì, siamo nel video Ultra Ah 36 dai Un altro pro No, sempre in quello... Sto ancora riscattando i codici Ok ce l'abbiamo fatta ragazzi L'impresa sembra fatta Ok adesso dobbiamo andare in collezione Cioè se non trovi l'ex? No, è impossibile Allora, aspettate che prima si deve caricare Ok andiamo su confezioni Oh, ok Ok, come potete vedere... Eh, lo so Allora ragazzi non potete vedere il TGC Il TGC... No! Eh, ho aperto il primo pacco per sbaglio Vabbè Eh, non ci fa niente Abbiamo trovato iDragon Bellissimo, ok Eh, questa... Quello non ho? No, quello non ho, non dovevo aprirle Non so perché mi si sono aperti Comunque ragazzi I due box sono pronti Mi raccomando fate raggiungere Eh, San Battle Frontier I 150 iscritti Vi prego così finalmente Finisco gli 115 Quindi ragazzi mi raccomando Iscrivetevi Ok, questo è tutto per la... Iscrivervi, iscrivervi Mi fate come era ultra E anche ad ultra Ok ragazzi questo è tutto Con la presentazione Io comincerò ad aprire subito dopo Iscrivetevi a San Battle Frontier Se volete le parti Ciao